Allora ditelo cos'è Nessuno Basta, basta, basta Oh ragazzi Ma che è basso Ma che è basso? Ma che è basso? Ma chi sono questo? Che è grosso? Poi questo quello, un cappellino che ti ha Ma chi ti ha? Ma chi ti ha? Il mio distinto non c'è Pennino Questo chi è questo? Battaglia No, è azzurro Battaglia Battaglia, Grasso, Nicolau Pennino Vabbè quello è incognito si chiama Aspetta, qual è detto che si chiama? Scusami Battaglia Se vinciavano portaglia facile E l'hai fatto il punto Comincia la partita fra Manchester City e Barcellona Scusami Partita valida per la terza giornata di Europa League No dai Occhi pinti Dove arriva altri Arriva altri Sì di che ha iniziato questa partita C'è una casacca Alec c'è una casacca da qualche parte Qua Prova ad attaccare il Manchester City Che dovrà dimostrare oggi Che dovrà dimostrare oggi la sua forza Palazzo per Barone intanto Barone prova al sinistro Ci prova subito Bomber del City Che ha provato ad impensierire il Barcellona Adesso prova ad attaccare Nicolaou Nicolaou prova a ragionare Alla fine Facile penino ma non lo serve Occhi vinti lo chiude Adesso sarà rimesso la terra delle e di Barcellona Occhio Occhio vinti Nicolaou dentro Lo Ia con intercetta Skygar bene dietro per occhi vinti Occhi vinti Occhio vinti Guardi come si chiama Tutta 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 Lo Ia con un Lo Ia con Adesso scambia il sito di tacco, palla forse che esce, non se ne accorge Callipo, allora si continua a giocare, forse qui c'è la calcio d'angolo, alla fine sarà calcio d'angolo per il City, andrà all'Uyem, una batte. Vallo Iacono a battere questo calcio d'angolo, palla dentro, spizza Valentino, palla che però finisce troppo alta, si ripartirà dunque dal rimesso dal fondo per il Barcellona, Nicolao, vicino a Sepennino alla fine decide di lanciare lungo per battaglia che non può arrivare, questa palla troppo lunga. Che Valentino lascia scorrere, può ripartire il City, occhi vinti, gioca bene per il capitano, lo Iacono che perde, però palla verrà, può ripartire Nicolao, può ripartire il City, vinti. Nicolao, dentro per Grasso, non riesce a controllare questa palla, è un po' difficile qui il controllo, tra Pennino, Barone, prova il tocco sotto su Pennino, ancora lotta a Barone, con Pennino, alla fine prova al destro, palla che finisce troppo alta, secondo tentativo di Barone. Lo Iacono, dentro per Barone, che può provare col sinistro, ci ripensa, alla fine la mette in mezzo per lo Iacono, che stoppa bene, non riesce però a controllare, ha fermato benissimo qui, può ripartire dal Barcellona. Guarda la palla, per il numero 11 per Barcellona che adesso prova a ragionare, su Valentino, Valentino però non si fa superare, molto bravo qui, a non cascare alle finte. Grasso al volo, forse un tocco di mano, alla fine riparte il City con Barone che prova il numero su Pennino, ancora Barone che riconquista palla un po' decentrato, vediamo cosa si inventa, alla fine la mette dentro per lo Iacono, e la mette fuori, illusione del gol, è veramente bella che esce di pochissimo, qui vicinissimo al gol lo Iacono. Può ripartire Barcellona, possesso perde palla, poi Nicolao recupera, Nicolao, prova a saltare, occhi vinti, ce la fai in un ultimo momento, poi Nicolao lotta, alla fine sarà rimesso a laterale per i mestersini. Siamo in carica, occhi vinti, dentro per lo Iacono, di nuovo per occhi vinti, spai occhi vinti, che l'ha riservito lo Iacono. Scambia bene mezzo a campo il Barcellona, prova al destro, alla che però sbatte sul muro di attenzione del City, allora parte Barone, Barone ancora lui sul sinistro, la mette dentro sempre per lo Iacono, che non riesce a trovare la palla, bravissimo, qui il numero 11 del Barcellona, che intercetta e fa ripartire i suoi. Bella palla dentro, grasso, ancora grasso per Nicolao, scambio di due, Nicolao alla fine prova al destro, che non può impensare Valentino, buona comunque l'idea di Nicolao, che sicuramente va avanti e indietro, senza stancarsi per il momento. Barone, sto a fare bene di tacco, prova a punterle di tutta la direzione a Barcellona, Barone va sul destro, Barone col destro, palla alta, di pochissimo, forse ha toccato, sì, sarà a calcio d'angolo, bella azione di Barone qui. Sarà a calcio d'angolo, il proprio Barone andrà a battere, palla dentro, Nicolao intercetta e poi grasso per ripartire. Ritina però recupera, inizio, Valentino torna indietro per il fratello, che gestisce bene. Occhi pinti, adesso ha spazio il City, prova a prenderselo occhi pinti. Palla dentro per Barone, scambio bene con occhi pinti di tacco, poi forse è toccato occhi pinti, non c'è nulla per l'arbitro, quindi si ripartirà. Con la stessa palla per il Barcellona, Pennino, Nicolao, prova a cambiare il gioco, palla deviata, ma che alla fine arriva il numero 12 da Barcellona, che fa un gran numero su occhi pinti. Prova a mettere mezzo, e prende il palo. Grande, grandissima azione qui. Nico, Nicolao, Nicolao, come si chiama l'11? Di Stefano, grazie. Ha provato qui Di Stefano, il numero 11. Ok, grazie. Pericolosissimo qui Di Stefano, che con un'azione solitaria ha provato il palo e per poco non va in mancanza.